buonasera carissimi amici benvenuti in questo nuovo video allora il mio pacco ordinato da salento railroad contenente l'840 056 di vtrance serie speciale pirata mi è arrivato martedì sera oggi che sto registrando il video è giovedì l'avevo ordinata aspetta che guardo mercoledì vediamo che data era mercoledì mercoledì 10 aprile e mi è arrivata martedì 16 aprile una bellezza di sei giorni per venire su da provincia gregia me lo ero fatto spedire da con gls morale a favola mi dicevano che era in consegna già il venerdì era una spedita giovedì detto dai bello senza che senza sabato la domenica in giro ma non è la favola poi il venerdì pomeriggio mi arriva l'email dicendo che non era in consegna oggi sabato domenica ovviamente niente lunedì nessuna consegna martedì arriva l'email che era in consegna al pacco vado a lavorare teoricamente tutti i corrieri ti fanno un colpo di telefono non ricevuto niente nessuna telefonata e come finisco di lavorare guardo il tracciamento consegnato le 16 55 cioè mi avevano consegnato le 16 55 e non c'era nessuno a casa boh detto speriamo bene speriamo bene arrivo a casa per fortuna c'era il pacco tutto intatto ed anche l'840 rentata provata su un metro il binario funziona funziona bene per quel poco che ho provato poi poi bisognerà provarla sul plastico del club comunque il negozio dovrebbe stare attento a queste cose perché io non mi interessa niente il pacco è arrivato e il modello funziona tranquillamente poi magari c'è qualche furbo che con la scusa che gli hanno consegnato il pacco senza far firmare niente magari fa qualche furbata qualche qualche magheggio poi ognuno speriamo che ognuno sia nella propria onestà devo un po studiarmi l'inquadratura qua dell'ambaradam comunque dai se adesso che periodo di dichiarazione dei redditi è meglio se è meglio vi consiglio di mandare il 5 per mille all'associazione di cui sono scritto io all'afta associazioni ferramatori trentino alto adige e vediamo se riesco vi metto il il file col codice il codice il codice giusto per 5 per mille e con questo è tutto buona serattissima carissimi amici a presto ciao